Ciao a tutti, oggi nuovo upgrade PC gaming di una nostra amica Michela alias Banshee che potete trovare su Twitch, su Instagram e su tutti i social che ci ha portato il suo computer per due o tre piccoli upgrade di decisamente ottima importanza andiamo a vedere quindi l'idea è togliere questa scheda video che vedete, ok? per mettere una fantastica 3080 ovviamente ci serve più potenza quindi Corsair, nuovo alimentatore della Corsair e i fantastici connettori della Lian Lee che a livello di utilizzo non servono a niente ma sono veramente, veramente belli vi facciamo vedere i nostri prima di andare a montare questi vedete? sono questi, uno e uno due sono tutti programmabili RGB quindi se avete già altre cose nel computer tipo il nostro già RGB sono belli perché potete impostare tutto a seconda dei colori del videogame a seconda dei colori del vostro ambiente della vostra camera o dell'ufficio dove ce li avete quindi sono inutili ma sono fighissimi è per quello che li abbiamo comprati anche noi quindi e oggi procediamo con l'upgrade a dopo ciao 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 ciao